figlia di un dipendente delle ferrovie dello Stato. Già da bambina si mette in luce con le sue doti canore in spettacolini provinciali in Emilia ed in Lombardia, ma ha il suo vero esordio nel 1962. All'età di 15 anni, durante il Carnevale di Crema, dopo aver partecipato al Festival di Castrocaro nel 1964 arrivando in finale, viene scelta da Mike Buongiorno come valletta per il suo programma televisivo La Fiera dei Sogni, insieme a due sue colleghe, Milena e Anna Marchetti.